Quattro Zampe in Fiera TV by Babaloo in mia compagnia Stefania Rotondi di Veto Chinol. Ciao Stefania! Ciao! Allora, intanto ben arrivata ai nostri microfoni e sono molto felice che tu sia qui a Quattro Zampe in Fiera. Allora, io inizierei subito facendo una piccola introduzione sulla vostra azienda. Volentieri! Allora, Veto Chinol è un'azienda farmaceutica veterinaria con più di 90 anni di storia, quindi abbiamo un'esperienza molto ampia, sia per quanto riguarda gli animali da compagnia e per questo siamo qui a Quattro Zampe in Fiera, che per quanto riguarda gli animali invece da produzione, quindi gli animali da reddito. Allora, 90 anni di esperienza che si basano su quali punti? Allora, sicuramente il nostro interesse principale, il nostro amore principale è la salute degli animali e quindi abbiamo fondamentalmente tre grosse aree su cui lavoriamo. La prima è quella della parassitologia, perché parlare di parassiti vuol dire pensare non solo alla salute del nostro cane e del nostro gatto, ma anche alla salute dell'intera famiglia, quindi questa sicuramente è una priorità. Poi abbiamo dei prodotti legati alla sfera del movimento. I nostri cani e i nostri gatti vivono quotidianamente con noi, fanno sport ormai anche con noi, viaggiano con noi e quindi è importante pensare alla salute delle loro articolazioni. E non ultimo, l'area del comportamento. Anche qui abbiamo degli integratori, Zilchene in particolare, che è pensato proprio per aiutare cane e gatto in tutte quelle situazioni stressanti. Anche cose semplici, andare a fare una visita dal veterinario, viaggiare con noi o banalmente quando vengono degli amici a trovarci, che comunque rappresentano un momento di stress per i nostri animali. Esattamente. Tu, da veterinaria, perché prima mi sono dimenticata, ti chiedo scusa, di dire che comunque sia occupi questo ruolo, qual è il consiglio che tu vuoi dare a tutti gli amici che vengono a Quattro Zampe in Fiera? Allora, sicuramente il consiglio più importante è di affidarvi ai consigli del veterinario perché sui social e su internet troviamo tantissime informazioni, ma ricordatevi che il vostro veterinario di fiducia è quello che conosce il vostro animale, lo vede, lo conosce e conosce voi e quindi è quello che vi può sicuramente aiutare maggiormente nel trovare la soluzione vincente per rimanere tutti in salute. Se gli umani vanno su Google a cercarsi le malattie, per quanto riguarda i nostri amici pelosoni, vanno sui tutorial di Instagram? No! Mi raccomando, affidatevi a dei professionisti. A Quattro Zampe in Fiera puoi? Possiamo divertirci perché ci sono tantissime attività da fare con i nostri cani e gatti, ma anche imparare tante cose per vivere al meglio con i nostri amici animali. E soprattutto incontrare persone magari come te che ci puoi davvero formare a 360 gradi. Ci sono delle novità in arrivo? Allora, ci sono sempre delle novità nelle aziende. Venite a trovarci sui nostri social, sui nostri siti che sono myhappypetitalia.it piuttosto che nemiciinvisibili.it dove trovate delle informazioni comunque valide perché scritte da professionisti e da veterinari. Hai un amico peloso? Più di uno! Il mio amico peloso, anzi, i miei compagni di ufficio perché lavorano con me, sono un cocker che si chiama Full, che ha 11 anni, e poi c'è Simon, che è un gatto molto dormiglione di giorno, ma che si sveglia quando ha fame, che invece ha 6 anni. Beh, direi che chi meglio di te ci può veramente introdurre al mondo dei pelosi perché ricordiamo che purtroppo ancora un pochino di ignoranza c'è e soprattutto a volte anche presunzione. Quindi affidiamoci alle figure di riferimento, ai veterinari, a tutti coloro che ne sanno davvero. E se posso aggiungere, la medicina è una scienza in continua evoluzione, quindi comunque ci sono sempre cose nuove da imparare, anche per noi veterinari. Grazie Stefania, grazie per essere stata ai nostri microfoni. Hai voglia di fare un saluto alla community di Babaloo e agli amici di Quattro Zampe in Fiera? Volentieri, grazie per avermi ascoltato e spero di rivedervi presto. Assolutamente, seguite, seguite quello che vi ha detto perché davvero si può cambiare la nostra vita in sinergia con il nostro amico peloso. Ciao! Grazie, ciao!